Innanzitutto vorrei ringraziare il consumer forum e il fabbio per avermi dato oggi la possibilità di essere qui a parlare di una matica importante come quella dell'educazione finanziaria. La mia ricerca, il mio lavoro di ricerca in tema di educazione finanziaria parte essenzialmente da una constatazione, ossia che oggi l'innovazione finanziaria e l'integrazione dei mercati ha portato sostanzialmente ad un aumento esponenziale del numero dei prodotti finanziari e del tipo di prodotti finanziari disponibili nel mercato e che purtroppo a questo particolare tipo di evoluzione non è corrisposto ad un'adeguata elevazione del grado di cultura economica della popolazione. Tra l'altro la crisi attuale conferma proprio un tendenziale deficit culturale in materia economico-finanziale di quelle che sono gran parte delle popolazioni, soprattutto quelli europei, che fanno capo dunque a paesi che vengono tendenzialmente richieduti come economie forti. L'Ocse infatti individua il deficit culturale in materia finanziaria come una delle cause alla base dell'attuale crisi. Il mio lavoro di ricerca tendenzialmente va ad esaminare quelle che sono le problematiche connesse, come diceva anche il professor Caliano, al tentativo di elevazione in questo grado culturale della popolazione sulla base delle tematiche economiche. Sulla base di cosa? Sulla base della convinzione che oggi l'educazione finanziaria costituisce un elemento indispensabile non soltanto per muoversi all'interno dei mercati ma soprattutto per affrontare scelte quotidiane. In parte anche per ripristinare quel rapporto di fiducia che ha avvenuto meno negli ultimi anni tra singolo cittadino e prodotto finanziario che spesso non sempre è pienamente comprensibile nelle sue caratteristiche e nelle sue peculiarità. Tra le altre cose l'educazione finanziaria viene anche individuata come una delle cause di un altro fenomeno che oggi interessa anche le fasce della popolazione, quello dell'esclusione finanziaria. L'esclusione finanziaria oggi può essere definita come quel fenomeno per cui un soggetto presenta delle particolari difficoltà oppure una particolare idrosia da cui finanzi a determinati prodotti o strumenti, strumenti di cui ha bisogno, quindi necessita per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti i giorni. Tenendo conto proprio di questa definizione ben si comprende qual è il cuore del problema. Il cuore del problema è che oggi è necessario accedere a strumenti finanziari e prodotti finanziari per vivere la vita di tutti i giorni, per evitare di essere esclusi da quelle che sono le necessità della vita quotidiana, le necessità relative al soddisfacimento dei propri obiettivi di vita. Tant'è che le aree di esclusione tendono tendenzialmente ad essere ben individuate, si parla di un'esclusione dai prodotti bancari, quindi dall'accesso ai prodotti bancari, si parla di un'esclusione dai prodotti di risparmio, di investimento, di previdenza, aree di esclusione che poi coincidono con le principali aree di pianificazione della vita delle persone. Il lavoro poi procede intanto di definire oggi che cos'è l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria viene definita dall'Ocse come un processo attraverso cui il singolo può migliorare la conoscenza appunto dei prodotti finanziari, attraverso cosa? Attraverso un'elevazione delle proprie competenze e soprattutto di quelle che sono le proprie consapevolezze riguardo opportunità e rischi connessi ai prodotti finanziari. La finalità è quella di poter ogni giorno assumere scelte economiche consapevoli, consapevoli ed efficaci soprattutto per innalzare quello che è il proprio grado di benessere economico, di benessere finanziato. Tra l'altro l'Ocse individua tre attività fondamentali su cui è possibile basare una maggiore consapevolezza del singolo che sono l'informazione, l'istruzione e quella che comunemente può essere definita come consulenza oggettiva o anche consulenza indipendente. Il mio lavoro di ricerca poi procede analizzando tre quesiti essenziali, come può essere raggiunto l'obiettivo, chi sono i soggetti investiti di questa importante funzione e soprattutto che cosa effettivamente costituisca l'oggetto dell'educazione finanziaria. Per quanto riguarda il come, come diceva anche Fabio prima, il primo passo per raggiungere quello che è l'obiettivo di un'elevazione è quello di rendere consapevole il singolo cittadino, il singolo investitore di quello che è il proprio deficit culturale in materia economica. Dal momento che l'educazione finanziaria, basandosi su particolari tipi di programmi educativi, ha un limite intrinseco, il singolo deve farsi sempre parte attiva, parte attiva e quindi parte consapevole per se stessa di dover rinnalzare quelle che sono le proprie conoscenze, le proprie competenze in materia finanziaria. In secondo luogo è essenziale che l'educazione finanziaria non venga mai presentata come un obbligo. L'educazione finanziaria è un diritto, è un diritto e l'importanza di ciò sta anche nel fatto che l'educazione finanziaria si pone in un particolare rapporto con quella che è la disciplina normativa vigente. L'educazione finanziaria infatti non vuole né tenta mai di sostituirsi a quelle che sono le forme di tutela classiche. Io parlo di legge generalmente ma ovviamente mi riferisco a quella che è una disciplina di tipo consumeristico, la tutela del consumo. Non vuole mai sostituirsi ma il rischio è che in parte l'educazione finanziaria venga anche strumentalizzata. La strumentalizzazione va evitata perché la strumentalizzazione comporterebbe di per sé un'attenuazione di quelli che sono i profili di responsabilità dei soggetti professionali che agiscono nell'ambito dei mercati. Per procedere poi il secondo quesito che mi pongo nell'ambito dello studio che ho tentato di portare a termine sull'educazione finanziaria è appunto quello relativo all'individuazione di chi effettivamente debba sviluppare i programmi educativi, ossia quello relativo ai fornitori. Come diceva anche Fabio, la nostra esperienza nazionale ci porta a vedere vari tipi di fornitori, ognuno molto diversi dall'altro, sia per vocazione sia per caratteristiche di quelle che sono poi i programmi educativi che poi effettivamente in essere. Cosa più importante però è che bisogna sempre ricordare che la famiglia in sostanza è il primo luogo dove devono percepite le prime nozioni economiche di base, ma ad oggi il ruolo della famiglia non viene più considerato sufficiente. Dal momento che tenuto conto di ciò, già a livello dell'Unione Europea si comincia ad auspicare a che la formazione di tipo economico cominci il prima possibile, già dalla scuola. Proprio per questo sono stati molti gli inviti agli Stati membri a predisporre dei metodi per far sì che l'educazione finanziaria rientra a tutti gli effetti tra quelli che sono gli insegnamenti scolastici, più precocemente possibili, quindi già da quelli che sono i primi Stati di educazione dei ragazzi. Per quanto riguarda il terzo cosiddetto, forse quello più importante, quello relativo a cosa effettivamente possibisca all'oggetto dell'educazione finanziaria. Nel mio lavoro si tende sempre ad evidenziare il fatto che l'educazione finanziaria non deve essere organizzata a comunicare semplici informazioni o nozioni, ma piuttosto metodi, metodi attraverso cui è possibile ricavare le nozioni necessarie, soprattutto il modo con cui le varie nozioni si collegano tra di esse, tra di loro, e soprattutto il modo in cui queste vengono ad organizzarsi nell'ambito di un contesto più ampio. Proprio sulla base di ciò è giusto si parlare sempre dell'educazione finanziaria, ma è giusto sempre intendere oggi un'educazione economico-finanziaria, quindi una vera e propria economia mentale, questo è l'oggetto dell'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria si orienta quindi alla vita dei cittadini, vita dei cittadini che fa sì che il contenuto dei programmi educativi non debba limitarsi meramente a quella che è la conoscenza del singolo prodotto finanziario. L'educazione finanziaria infatti mira a fornire al singolo investitore, più generalmente al singolo cittadino, delle conoscenze sufficienti affinché possa organizzare e gestire gli eventi della vita tenendo conto dell'intero arco temporale, dell'intero ciclo della vita. Ciclo di vita perché? Perché la vita di un soggetto è fatta, come tutti sappiamo, di varie fasi. Fasi che si differenziano l'una dall'altra per eventi, per pericoli, per necessità e bisogni. Capire ciò è essenziale, infatti le finalità pratiche dell'educazione finanziaria sono essenzialmente due. Da un lato quella di rendere il singolo consapevole che ogni scelta debba essere presa tenendo conto di quelle che sono anche le fasi future della propria vita e quindi gli eventi futuri. E in secondo luogo che il soggetto dovrà essere resodotto del fatto che ogni scelta economica presa oggi ha uno specifico impatto, delle specifiche conseguenze su quelle che sono poi le decisioni economiche da prendere in futuro. In sostanza l'educazione finanziaria significa l'educazione alla pianificazione. Pianificazione perché? Perché nella pianificazione è in sostanza la chiave economica del futuro. Cioè pianificando gli eventi oggi per oggi si tende a salvaguardare quelli che sono gli obiettivi futuri. Educazione alla pianificazione del resto è educazione al futuro. Tant'è che si tende a suddividere l'educazione finanziaria in più aree, non spezzettandola perché l'intento è sempre quello di dare una visione unitaria delle problematiche economiche, ma valutandola nel singolo valore delle singole parti che sono appunto la protezione, l'investimento e il rischio di indebitamento, il risparmio e la previdenza. Da ciò quindi si deduce che l'educazione finanziaria attribuisce delle particolari attività cognitive che oggi sono essenziali per i giovani. Capire ciò per un giovane è essenziale. Io termino addirittura il mio lavoro dicendo che il risultato massimo dell'educazione finanziaria potrà essere raggiunto quando un ragazzo riuscirà in parte non a prevedere ma a capire che dopo molti anni avrà esigenze di tipo previdenziale. Già capire di avere delle future esigenze di determinato tipo è già una conquista di lato di educazione finanziaria. Termino, per cui probabilmente ho parlato troppo, mi scuso, rinviando a quello che è il titolo del mio lavoro. Il lavoro si intitola educazione finanziaria cultura, pianificazione e futuro. Cultura perché? Perché l'educazione finanziaria è oggi una parte fondamentale di quello che è il bagaglio culturale in un cittadino del 2015. Pianificazione perché nella pianificazione è in fondo la chiave della giusta regola da utilizzare oggi per la scelta economica. Futuro perché nella pianificazione è il futuro in sostanza di un ragazzo o di uno di noi.